Inizieranno l'8 marzo ma si concluderanno a giugno le celebrazioni per la giornata internazionale della donna. Una serie di eventi che a figline incisa sono organizzati da associazioni, sindacati, sezione soci coppe e comune che vedranno incontri, riflessioni e dibattiti sul tema. Tra le iniziative quella del ricordo di Alessandra, vittima di femminicidio nel 2001, domenica 26 marzo, che sarà ricordata con uno spettacolo presso il circolo Fanin, alla presenza del fratello Massimo. Avremo un filo conduttore con poesie e musiche che parlano della violenza sulle donne, in tutto però sarà in una forma molto poetica con pianoforte, violino e miei allievi di canto e solisti. Per non dimenticare mia sorella ma anche per basarsi soprattutto sul tema sulla violenza sulle donne, noi siamo orgogliosi di organizzare questo evento il 26 di marzo, anche se non abbiamo gli strumenti per combattere veramente, però bisogna fare queste iniziative perché sono importanti per la tutela della donna. L'8 marzo invece si svolgerà la giornata presso il Centro Sociale Il Giardino, con letture e musica dal vivo. Poi ci saranno molti altri appuntamenti, fra cui quello del 9 marzo al Circolo Arci e quello di sabato 11 presso la Biblioteca Comunale. Abbiamo positivamente accolto tutte le iniziative e le abbiamo raccolte all'interno di un calendario unitario, questo per consentire anche una maggiore furbilità di quelli che sono gli appuntamenti che ci saranno.